E questo l'ha scritto bene, guarda qua. Vedete, questo è Merry Christmas. La macchina è la io. E si parte facendo arti cappuccino, poi si scannerizza il QR code, si invia sul sito la foto e compari sulla macchina. Ecco, adesso ho messo Masi in Giappone, ne approfitto. Poi si appoggia la posta qui, poi si dà in via la macchina. Bellino. Oh, Ijo. Oh, guarda qua Bellino che è, eh? Siamo? Ci vediamo un po' subito da Giappone. Ciao, ciao.